ok buongiorno quindi buongiorno a tutti e oggi abbiamo un mattiniero con con alberto grandi con noi e che è un docente all'università di parma professore associato di storia dell'integrazione europea e dell'alimentazione è un autore di diversi articoli anche volumi molto importanti nel dibattito italiano e non solo su cibo e identità per questo che abbiamo invitato a parlarci del suo nuovo progetto tra i libri appunto ricordiamo denominazione di origine inventata è uscito nel 2018 per mondadori e poi parla mentre mangi è uscito l'anno successivo nel 2019 per mondadori e oggi appunto ci parlerà del suo nuovo progetto che il titolo del seminario è il freddo proibito granite sorbetti e gelati tra miti e documenti siamo proprio molto contenti di averlo fatto con noi e lascio la parola alberto e grazie no sono ovviamente grazie grazie Andrea ovviamente sono io che ringrazio voi dell'invito mi fa molto piacere e mi fa piacere perché io prendo l'incontro di oggi anche un po' come un test rispetto appunto alle cose che sto facendo appunto come hai detto tu il mio nuovo progetto dovrebbe se tutto va bene uscire a gennaio questo volume sulla storia sul commercio e la produzione di ghiaccio e neve io arriverò nella mia ambizione arrivare fino ai frigoriferi domestici quindi fino alla fine di questa storia però insomma oggi ci fermiamo a quando ancora si usa il ghiaccio e la neve naturale per raffreddare cibi e conservarli allora appunto cercherò di mettere ordine in tutto questo argomento perché io ho già scritto alcune cose su questo argomento ma appunto approfondendo e andando avanti nella ricerca non sono più così convinto delle cose che ho scritto negli anni scorsi e quindi appunto come vi ho detto userò vi userò anche come come test stress test come dicono quelli che parlano bene rispetto appunto alcuni aspetti che vorrei affrontare di solito quando faccio appunto queste conferenze sul tema ghiaccio e neve c'è sempre qualcuno che mi chiede ma perché ti sei messo a studiare il commercio del ghiaccio e della neve e allora ci sono due possibili risposte la prima è quella diciamo semplice che in civiltà materiale di Brodel che è un po' la bibbia per gli storici economici non so se a pagina 1 ma secondo me nelle prime dieci pagine c'è una nota a piepagina che dice sarebbe bello che uno storico economico studiasse un giorno il commercio del ghiaccio e della neve quindi questa è un po' la 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 e io molto modestamente mi sono messo a fare questo questo mestiere ma altri l'hanno già fatto sicuramente meglio di come lo farò io negli anni scorsi e quindi comunque è un argomento che ha una sua rilevanza dal punto di vista storico economico e più ci sono due elementi che sono quelli che sono sono un po' il cuore della dell'incontro di stamattina la prima è che eh restando proprio al tema dei granite sorbetti e gelati si parla di una storia gastronomica che a me appare molto più complessa di come normalmente viene raccontata ribadisco di come l'ho raccontata anch'io negli anni scorsi è un qualcosa di molto più articolato e in più c'è molta storia culturale eh in questa in questo argomento eh adesso farò un breve eh riassunto del del punto del tema del raccolta e della conservazione del commercio del ghiaccio della neve e c'è molta cultura c'è molta etnografia ci sono molti aspetti anche tecnologici sviluppo tecnologico eh che hanno molto a che fare con la storia che appunto eh raccontiamo stamattina. Allora eh andando sempre con ordine eh la produzione e la raccolta, la conservazione, il commercio della neve e e poi successivamente anche del ghiaccio eh è una storia davvero millenaria eh nel senso che eh per esigenze di conservazione alimentare ma soprattutto per eh esigenze di consumi legati alla sfera del lusso eh la neve è stata un prodotto commerciale eh fin dai probabilmente dal secondo millennio avanti Cristo eh in Mesopotamia almeno eh dalle altre parti molto più tardi con alcune sfasature cronologiche eh abbastanza rilevanti però eh non sto qui adesso ovviamente poi se se qualcuno ha voglia di approfondire l'argomento se possiamo parlare anche di questo però eh parecchi documenti attestano la con una continuità e una eh progressiva progressivo allargamento di questo tipo di commerci a partire almeno dal secondo millennio avanti Cristo eh inizialmente in Mesopotamia poi anche nel resto delle dell'Europa eh con appunto dicevo ehm sfasi sfasamenti cronologici abbastanza rilevanti ehm questa è una storia che poi eh a partire dall'antichità eh diciamo il mondo romano greco romano soprattutto i romani con eh lo sviluppo delle terme che eh nelle terme quelle più organizzate prevedevano anche il frigidarium e il frigidarium veniva spesso l'acqua del frigidarium veniva spesso raffreddata attraverso l'emissione di neve e quindi questi stabilimenti termali avevano bisogno di una rete di approvvigionamento di neve abbastanza eh consolidata e e strutturata questo a sua volta incentivava appunto da un lato la raccolta e commercio dall'altro lato anche un uso privato nella cucina romana eh ma anche nella cucina orientale eh la neve è un ingrediente è un ingrediente direttamente che viene messo direttamente in in alcune preparazioni eh alcune piatti ma è soprattutto utilizzato come additivo per il vino eh nel mondo romano e nel mondo antico il vino è una cosa molto diversa da quella che consumiamo noi oggi il vino aveva sempre bisogno di additivi e tra questi eh soprattutto d'estate eh veniva usato il la neve per raffreddarlo e per ehm e per anche a allungarlo per insomma per diluirlo eh anche nel mondo greco c'è questo questo tipo di 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 consumo però insomma è chiaro che stiamo parlando di qualcosa di molto diverso da da appunto dai gelati dai sorbetti dei quali parleremo dopo però comunque un uso diretto della neve eh in determinate preparazioni gastronomiche e soprattutto per quanto riguarda la diluizione del vino e il raffreddamento delle delle bevande è un uso che nel mondo greco romano era abbastanza consolidato ovviamente sempre nella sfera del lusso sempre per coloro che se lo potrebbero permettere questo ci apre tutto uno scenario sui modelli di eh di commercio sui le le i sistemi per la conservazione della neve insomma ci sono tutta una serie di elementi che entrano in in questo in questo in questo ragionamento però insomma eh nel mondo romano eh questo commercio eh e questo utilizzo è abbastanza consolidato eh questa situazione sostanzialmente viene meno nel momento in cui eh cade crolla l'impero romano d'occidente eh e quindi l'uso della neve sia come ingrediente sia come eh diciamo ammendante non so non si può dire ammendante come additivo eh per il vino per le bevande è praticamente sparisce mentre non sparisce in Oriente quindi eh l'impero romano d'Oriente invece non conosce questo questo declino eh e l'uso in Oriente invece si si mantiene perché faceva parte della tradizione appunto alimentare di di quel mondo eh ovviamente sempre nella sfera del lusso e e e questa questa diciamo sopravvivenza in Oriente probabilmente ritorna in Occidente eh con le invasioni islamiche quindi a partire insomma dal settimo ottavo secolo eh dopo Cristo eh quando appunto si si tornerà ad essere l'Occidente tornerà ad essere diventerà appunto terra di conquista eh per per l'Islam in espansione e quindi eh è è abbastanza ehm come dire consolidata l'ipotesi storica per cui eh siano proprio la la penisola iberica e la Sicilia le aree che per prime ritornano a consumare neve eh come appunto ingrediente o come eh additivo per per le bevande con tutti gli elementi sul vino per l'Islam insomma comunque adesso non stiamo qui a entrare troppo in dettagli e poi ovviamente eh ovviamente eh ovviamente questo vale vale in generale fermatemi quando volete se ci sono cose sulle quali eh non 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 vi non non vi torna qualcosa eh che in Occidente questo con questo uso e e le reti commerciali legate appunto al trasporto e la conservazione della neve e del ghiaccio sia completamente eh sparita eh lo dimostra indirettamente un episodio eh sul quale io mi soffermo perché insomma è è un episodio iper citato la cui veridicità in realtà non è del tutto dimostrata ma che è quello che succede eh alla fine della battaglia di Attin nel 4 luglio del 1187 eh quando Guido di Lusignano comandante re di Gerusalemme viene fatto prigioniero eh è portato nella tenda di del Saladino e e lui si aspetta di essere ucciso fondamentalmente di essere giustiziato e in realtà Saladino ha un re offre offre un regalo da re e gli offre della dell'acqua e della frutta ghiacciata e lui vede che Saladino sulla sulle rive del lago di Tiberia del 4 luglio del 1187 quindi io immagino che sulla lago di Tiberia del 4 luglio insomma tra i 35 e i 40 gradi non non è difficile immaginare che si vada sotto peraltro Guido di Lusignano non so se eh conoscete qualcosa la battaglia di Attin ma eh lui non beve da due giorni eh perché è proprio è stata la diciamo la tattica dei dei del Saladino è stato quello di isolare di allontanare i i cristiani l'esercito dei crociati dalle dalle fonti d'acqua quindi è veramente assetato e disperato ha straperso la battaglia ha perso tutto fondamentalmente e e questo gli offre frutta ghiacciata e e e acqua ghiacciata eh è ovviamente un'ostentazione di 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 forza di potenza di organizzazione ed è un dono molto prezioso peraltro insomma quindi c'è sicuramente è qualcosa di incredibilmente poi dopo l'episodio ha degli altri risvolti ma comunque questo è e lui è completamente stupito cioè non non immagina che eh estate si possa consumare ghiaccio e neve cioè con con il caldo che c'è invece eh l'organizzazione e la logistica diremo oggi eh del Saladino gli permette di fare questo eh perché era un era un consumo assolutamente consolidato e peraltro molti crociati poi ricordano di ritorno come i musulmani come gli arabi siano soliti dicono loro spargere la neve come noi spargiamo il sale sui cibi eh c'è questa questa testimonianza abbastanza interessante e stiamo parlando appunto del già del basso medioevo fondamentalmente eh però insomma eh questo questi questi consumi in qualche modo si eh si consolidano eh prima in Oriente e poi progressivamente anche in Occidente eh allora eh qui ci sono tutta una serie di elementi eh che si eh mescolano e che si che si intersecano la la cui eh affidabilità documentale non è non è eh sicuro al cento per cento eh eh se il tema di oggi è quello dei sorbetti e del gelato eh e della granita cioè quindi che in realtà la granita è diversa logicamente adesso dirò perché rispetto rispetto agli altri eh parliamo di una storia che è parente stretta di quella che vi ho raccontato fino adesso ma che è filosoficamente mi verrebbe da dire ontologicamente diversa da quella che ho raccontato fino adesso per cui si parte sicuramente da una base fredda che è appunto la neve o il ghiaccio che viene raccolto conservato e portato laddove eh si devono concentrare i consumi eh ma che ha rappresenta un salto di qualità enorme e anche ehm scientifica tecnologicamente eh un salto di qualità importante perché non usa più il ghiaccio e la neve come ingrediente ma come strumento per modificare i cibi eh alla stregua del fuoco cioè il freddo a quel punto non è più un appunto un additivo ma è uno strumento indiretto che modifica l'essenza del cibo questo è ovviamente un salto di qualità molto 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 grosso e per questo io dico che la granita è parente ma non è assolutamente eh coerente con con il sorbetto e con il ghiaccio e con la e con il gelato quando avviene questo salto di qualità e questo cambiamento eh non è facile da da fermare eh ci sono una serie di ricette eh adesso magari eh le 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 vado le le ho raccolte adesso qualcuna ve la leggo eh ci sono una serie di ricette eh tradizionalmente la l'inventore delle ci sono una serie di personaggi quasi sempre eh italiani che vengono indicati come gli inventori del sorbetto e e del e del gelato eh la parola sorbetto viene fatta risalire al all'arabo charbit per cui quindi si dice no questa è sì un potrebbe essere un'invenzione italiana ma che gli italiani hanno importato dai turchi dal e soprattutto nell'Italia meridionale soprattutto in Sicilia eh quindi c'è tutta questa diciamo questo festofilone eh che cerca di tenere insieme eh questa lunga storia questa storia di lungo periodo ehm ma in realtà io sono convinto che le cose non siano così semplici ad esempio adesso cerco di andarvelo a pescare ho trovato una testimonianza eh di eh Ferdinando Marsigli che nel 1683 che lui è ehm un italiano eh e che è eh stato fatto prigioniero e schiavo nella corte turca e nel 1683 descrive il sorbetto turco eh il sorbetto turco non è non è freddo dice il sorbetto è fatto con zucchero e con miele chiarificato e mescolato con sugo di limone o di brugne e di cerase o di fragole o di pomi granati ed anche di fiori come rose e viole che poi col fuoco riducono tre parti in una e con odori di zibetto ambra e altre conservano in vasi che fondono con la dovuta produzione dello zucchero liquefatto dal bevanda conservano per tutto l'anno e quando ne vogliono bere la mescolano con acqua pura che si imbeve delle medesime qualità che usano per tutti i convitati bere una sola tazza la quale di vetro procellano ok e questo qui va di seguito quindi e questa è la descrizione che dà del sorbetto turco eh 1683 e ma nel 1683 in realtà ci sono già e sono già state pubblicate una serie di ricette italiane eh di sorbetto eh che è invece la eh qualcosa di molto simile al sorbetto che conosciamo noi oggi in realtà c'è tutta una parte precedente diciamo grosso modo la seconda metà del cinquecento eh nella quale il sorbetto sembra più un'acqua raffreddata sembra più un'acqua raffreddata e ovviamente aromatizzata con qualche aroma eh quindi ancora qualcosa di 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 diverso e quindi dove in qualche modo sì è vero che la neve non è direttamente utilizzata ma che comunque non rappresenta quella trasformazione nella sostanza nella caratterizzazione del 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 cibo che invece vedremo quando nasceranno i sorbetti e i gelati ah mi ho fatto cenno a 1550 eh mi piace ricordare come nel trattato del volo di Leonardo da Vinci eh lui dica che lo scopo di creare una macchina volante sia quello di andare a prendere la neve d'estate sulle montagne e portarlo in città eh dice esattamente questo e allora al di là della cosa curiosa eh è evidente che nel 1500 evidente stiamo 1503 se non ricordo male del trattato sul volo eh nel 1500 all'inizio del sedicesimo secolo il consumo di neve nelle città era già eh particolarmente elevato e fra l'altro proprio nel corso del sedicesimo secolo e ancora di più nel corso del diciassettesimo secolo inizia eh questo ne ha già parlato Massimo in un suo interessante articolo sul bere freddo inizia un dibattito straordinario tra i medici eh su se faccia bene o faccia male bere freddo eh bere bevande fredde eh anche qui ci sono aspetti e questo lo dico a voi filosofi molto interessanti perché allora eh è chiaro che il riferimento è quasi sempre a Galeno e a Ippocrate e nella logica di appunto della medicina galenica il la digestione è lo stomaco è quasi è un forno fondamentalmente quindi la digestione è una nuova cottura e quindi eh bere freddo non fa bene perché abbassa la temperatura del forno insomma quindi rende più difficile la 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 digestione in realtà anche qui il dibattito è molto serrato eh ci sono c'è un frattato molto interessante eh di Niccolò Monardes delle che è del mille cinquecentosettantaquattro eh medico spagnolo che eh dice eh che no fa quelli che hanno incombenze di governo eh quelli che sono i principi insomma quelli che stanno bene economicamente mh fare bere freddo fa bene bere bevande fredde ghiacciate fa bene eh mentre invece gli altri diciamo i contadini mh è meglio che lo facciano con moderazione cioè quindi dipende da tra l'altro poi gli unici che se lo potrebbero permettere i ricchi effettivamente quindi i contadini comunque non potrebbero permetterlo però comunque c'è questo mentre invece dopo questa timida apertura antigalenica diciamo così eh c'è invece eh Cosimo Salini nel 1600 nove che scrive un trattato che eh sul bere freddo che è devastante addirittura dice che bere freddo porta alla follia può portare alla perdita del senno eh alle donne incinta eh crea problemi perché nascono solo femmine cioè bere freddo perché abbassa la temperatura del ventre della donna e quindi eh genera romanticamente femmine e poi ci sono tutta una serie di altri sintomi che vengono attribuiti al bere freddo alcuni anche credibili e anche che fanno parte della nostra della nostra esperienza per cui ad esempio eh dice può portare dissenteria oppure invece il contrario ritenzione che questi sono gli effetti ma l'effetto più amoroso e su quale tutti potremmo convenire è che fa male ai denti eh bere freddo fa male ai denti e che su questo mi verrebbe da dire che finalmente dice una cosa che ha che ha un senso anche dal punto di vista magnetico moderno eh però al di là di tutto e fra l'altro vi dicevo questo questo dibattito ha molto a che fare con temi filosofici perché a un certo punto Salini ma poi anche alcuni suoi eh eh successori eh dice ma se eh al se per l'uomo fosse necessario eh bere freddo bere bevande fredde e mangiare cibi freddi ghiacciati eh non avrebbe bisogno di andare in montagna a procurarsi la neve cioè eh Dio ce l'avrebbe data eh senza problemi senza necessità senza dover fare tanti sforzi eh e cita Aristotele fra l'altro su questo eh e e quindi c'è c'è questo questo dibattito su appunto il fatto che eh cercare bere freddo è un lusso che non ha nessun senso che non ha non ha nessuna utilità e quindi eh al di là del fatto che faccia bene o faccia male comunque non non è giusto farlo ecco mettiamola così dopo non vorrei entrare troppo nel vostro campo però c'è questa dimensione tra l'altro già Seneca aveva in qualche modo eh stigmatizzato questa queste usanze questi costumi eh romani dicevano ah mangiare la neve è una cosa senza senso insomma eh è una mollezza nei costumi insomma e quindi c'è una tutta una serie di di elementi che che entrano in questo dibattito eh allora mh dicevo quindi eh siamo in questa in questa fase eh nel sedicesimo secolo avviene un altro fatto importante eh che ehm vengono in qualche modo messe appunto le eh quelle che vengono chiamate insomma le eh miscele eutettiche cioè eh eh la la capacità e la possibilità attraverso la mescolante mescolamento di neve e di sale di ottenere un preparato un composto molto più freddo della della neve e del sale eh anche questa è una scoperta che si fa più o meno intorno alla metà del sedicesimo secolo eh Blasius di Villafranca che è un medico eh spagnolo riesce a ghiacciare il vino eh appunto mescolando neve e sale eh e quindi questa ancora una volta quindi c'è la possibilità di ottenere temperature molto più fredde e di trasmettere più facilmente agli ingredienti che non sono a diretto contatto eh permette appunto anche una svolta eh tecnologica e logica vi dicevo eh e logica mi avrebbe da dire eh vi dicevo recuperando recuperando tutto quello che ho in qualche modo eh detto fino adesso eh vi dicevo eh la la ricetta del sorbetto per cui appunto attraverso la eh l'accostamento di neve e di sale in un recipiente eh che ha un doppio fondo a una doppia parete per quel punto intorno si mette neve e sale in mezzo si mette il preparato che va eh ghiacciato ecco questo tipo di eh di preparazione eh viene attribuita vi dicevo sostanzialmente degli italiani ce ne sono tanti che che ai quali viene attribuito uno è Procopio dei Coltelli che eh a a Parigi poi fonderà il caffè Procopio che esiste tuttora ehm poi un altro è Bernardo Bontalenti che è eh l'architetto, il gastronomo, è un po' un mastro di cerimonie di eh della famiglia Medici eh all'epoca del matrimonio tra Maria e Enrico eh e che appunto eh è la colui che viene al quale si attribuisce l'aver esportato la ricetta del sorbetto eh in Francia eh però al di là di 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 queste di queste stranezze cioè di queste curiosità perché appunto eh qua si va poi nell'aneddotica e insomma è anche un po' complicato eh tenere il conto eh le ricette sono eh abbastanza chiare eh e la 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 prima ci sono tutta una serie di testimonianze di ricette che appunto come vi dicevo stanno più o meno tra la seconda metà del diciassettesimo secolo e la fine del diciottesimo secolo eh sono abbastanza curiose eh eh ad esempio ehm ci sono una serie di dicevo di testimonianze eh una fra queste una delle delle più importanti è quella di Antonio Latini eh che appunto dice descrive le sorbette o acque agghiacciate eh con profumate con essenze di limone, fragola, cioccolata, marena e dice che a Napoli pare che ognuno nasca col genio e con l'istinto di fabbricare sorbette quindi lo attribuisce ai napoletani in questo caso eh questa questa capacità eh poi ce ne sono altre prima di arrivare a Vincenzo Corrado che è quello forse più eh più strutturato eh volevo eh invece citarvi perché allora vi dicevo eh si attribuisce alla Sicilia e a Napoli la centralità in questa storia ma in realtà troviamo anche eh eh qua e la eh testimonianze da in altre parti in altre regioni d'Italia eh Tanara se non ricordo male e parla di sorbetto eh eh consolidato eh uso un termine forse adesso non mi ricordo il termine giusto però parla di sorbetto quindi siamo in ambito bolognese eh ma la cosa più secondo me più interessante eh 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 aspettate che adesso la vado a ripescare ecco dove no l'ho persa dove ho trovato il bacco in Toscana eh di ehm di Redi del 1684 adesso la vado a ripescare perché dovete troppo divertente che in forma di poesia eh fornisce la ricetta del sorbetto adesso la vado a ripescare perché ecco qua il 1685 eh dice eh tuorri d'uovo cotti appena sbatti in terza porcellana e se vuoi la cosa sovrana quando sai sbatti quanto sai sbatti di mena poi metti zucchero più assai di un pizzico e torna un gran bucchè un buchero poi non fare non fare aspizzico poco muschi e ambra in chioccia venti o trenta gelsomini mondo è a fare dei miei moncini e poi dice eh a un certo punto insomma va avanti con la ricetta però inizia con eh uova cotte quindi stiamo parlando di insomma di qualcosa di molto molto diverso da da appunto da semplice acqua ghiacciata e dice eh dove ah eh cristalli più docenti che eh quindi poi poni l'allora in dorata cantiplode di cristalli più docenti che fra turbini nascosa fra le sue miniere argenti fabbricarsi a vallombrosa posta trite polverizza e di sal che cuoce e frizza tutte le aspergi di le piaghe che farà anche più vaghe mentre in breve puoi vedere di cristal cangiarsi in perle e di gel cangiarsi in neve o questo bel lavoro da setarti olmo ristoro sul mezzogiorno bella trincera alzano intorno la sorbettiera e quando vedi che intorno e torno gelido nastro fa il vaso adorno con un cucchiaio in manterso argento tosto li distacca e il ridistacca perché vedrai rifarsi in un momento finché del bello rimescolando rimaneggiando questo contragelato e non gelato vedrai farsi più di un loco e quindi insomma in pratica si arriva alla appunto alla lavorazione del del ghiaccio adesso torno quindi alla lavorazione del gelato attraverso appunto questa 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 e poi vi dicevo vincenzo corrado ma siamo fine settecento offre invece la 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 ricetta eh proprio con addirittura le 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 dosi per ottenere il freddo necessario per congelare dodici gialle di sorbetto cedrato vi bisogna un libre tre di zucchero tirato a cottura eh la corteccia il succo di limoni e ne richiederà poteranno pannellino dopo l'arte si metterà a congelare regolandosi che per tal dose necessitano rotola otto di neve disposta in varie volte e rotolo uno e mezzo di sal comune quindi siamo già appunto alla ricetta per ottenere il freddo necessario per la 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 realizzazione del sorbetto eh l'introduzione del latte è ancora successiva e nel frattempo c'è un progresso tecnologico della sorbettiera eh nel senso che la sorbettiera è inizialmente un oggetto artigianale per quel punto è a doppia intercapedine per cui intorno si mette la neve e il sale e e dentro si mette la la il composto da congelare la sorbettiera moderna è invece ed è questa sorbettiera è ragionevolmente inventata eh a Napoli e il sorbettiere comincia a diventare un personaggio che popola le strade napoletane anche questo è street food è street food eh che si diffonde abbastanza velocemente eh la sorbettiera invece moderna ma novella è un'invenzione americana che rende ancora più facile eh la realizzazione di questo prodotto e quindi permette un ulteriore eh allargamento della della e diffusione di questa attività eh per però anche su questo bisogna bisogna essere abbastanza chiari perché nel mila e settecentosettanta eh Brydon lo scorsese Brydon che scrive il libro ehm ehm a tour through Sicily and Malta eh racconta di quando è ospite del vescovo di Girgenti il vescovo di Agrigento e e fra l'altro lo racconta racconta questo questo pasto con molti particolari e racconta dell'incidente che avviene alla fine perché gli portano eh un sorbetto ragionalmente una serie di sorbetti che vengono come spesso accadeva in quel periodo presentati sotto forma di frutta e e quindi lui prende quella che crede essere una mezza pesca eh snocciolata e e se la mette tutta in bocca e ha un collasso sta malissimo eh i i i presenti eh temono per la sua sorte e questo vuol dire che ehm un un nobile inglese del di fine settecento non sapeva assolutamente cosa fossero i sorbetti quindi questa grande diffusione che insomma in qualche modo viene attestata da molti documenti probabilmente si è stata in ambito urbano eh non solo in Italia come vi ho detto su Italia ma Firenze Bologna insomma Milano anzi Milano viene attribuito una certa primatura ehm primogenitura per quanto riguarda l'uso del latte perché se c'era Milano c'era una maggiore abbondanza non sono del tutto convinto di questa di questa lettura però sicuramente anche a Milano eh si consumavano gelati e sorbetti e però appunto come dicevo un nobile scozzese che fa il Grand Tour eh di fine settecento non sa cos'è e e non solo ma qualche giorno dopo eh annota ancora nel suo diario una cosa che lui considera molto strana di questi nobili catanesi che mandano i loro servitori sull'Etna per prendere la neve e raffreddare il vino anche questa è una cosa che lui rimane per la quale lui rimane molto stupito e che hanno nel suo diario diceva fanno delle cose davvero stranissime eh e quindi questa anche questo è un altro elemento che 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 va ricordato quindi questa diffusione eh che appunto si si considera europea in realtà è un po' più sembrerebbe essere un po' più a macchia di leoparto eh vi dicevo con l'invenzione di Nancy Johnson e siamo però a metà ottocento 1840 grosso modo eh allora probabilmente c'è davvero un ulteriore salto di qualità eh nel frattempo eh inizia tutta nel frattempo il commercio e il mercato del ghiaccio della neve diventa un commercio mondiale globale dominato dagli americani che eh dominano che mandano il ghiaccio del del New England eh da Boston a Calcutta eh un viaggio incredibile ma effettivamente poi diventa una rete commerciale consolidata eh e quindi il freddo diventa è è ancora nella sfera del lusso ma diventa anche in questo momento un eh un sistema di conservazione alimentare molto più diffuso eh diventa un presidio medico molto utilizzato e i mattatoi e e gli ospedali sono i grandi consumatori eh di i mercati del pesce ovviamente sono i grandi consumatori di ghiaccio eh però il ghiaccio diventa è anche entra a far parte del del insomma degli usi alimentari ritorna a far parte degli usi alimentari molto comuni eh sia nell'uso domestico ma anche appunto l'uso professionale e i gelati e i sorbetti cominciano a diventare eh grandi prodotti di grande consumo gli italiani da questo punto di vista hanno un ruolo svolgono un ruolo io tendo un po' a come dire a a ridurlo però eh però questo questo è sicuramente quello che che avviene ehm e eh e vi dicevo a questo punto con la diffusione del commercio del ghiaccio eh a livello globale eh il ghiaccio diventa l'ingrediente principale di una storia che è completamente diversa da quella che vi ho raccontato che è quella dei cocktail eh perché sapete che il ghiaccio è praticamente l'ingrediente principale dei cocktail eh e non è un caso che quando i produttori americani cercano con successo di entrare nel mercato inglese del ghiaccio quindi portando ghiaccio da da Boston a Londra ehm fanno precedere questa questa tentativa di invasione commerciale con l'invio di trenta barman americani che eh diffondono la moda dei cocktail in America e ovviamente diffondono la moda dei cocktail scusate in America e in Inghilterra e diffondono la moda dei cocktail e eh impongono l'uso del ghiaccio americano nel senso che il ghiaccio americano loro dicono ovviamente è più trasparente è più buono è più sano è più è più sicuro su questo non sarei così tanto sicuro ma eh questo è e e la la l'indice di 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 purezza e di e di qualità del ghiaccio viene misurato con la trasparenza del ghiaccio per cui eh la la sede commerciale a Londra della della Wenham Ice Company eh porta ogni mattina un blocco di ghiaccio lo mette su sullo strand cioè quindi sulla strada quella dello shopping londinese e eh dietro ci mette la prima pagina del Times e quindi gli inglesi possono leggere attraverso questo blocco di ghiaccio e la dimostrazione appunto dell'assoluta trasparenza del blocco stesso del ghiaccio stesso la eh la prima pagina del Times giorno per giorno e questo appunto come strumento commerciale strumento di di promozione di questo prodotto è è è una storia un po' laterale rispetto a quella che vi ho raccontato ma insomma eh sono due storie sono storie parallele che comunque eh hanno sono strettamente imparentate eh il risultato comunque che nella seconda metà dell'ottocento l'uso del consumo di ghiaccio e sorbetti di di gelato e sorbetti è assolutamente eh sicuramente superiore ed è universale almeno a livello occidentale eh anche in America appunto l'invenzione della sorbettiera a manovella è eh americana ehm e quindi è evidentemente un consumo che si è ormai consolidato una modalità di consumo che si è ormai consolidata eh io io mi mi fermerei qui con 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 una ovviamente una notazione eh da questo momento quando i consumi sono così diffusi inizia la guerra tra ghiaccio artificiale e ghiaccio naturale ve la risparmio ma se volete parliamo anche di questo perché qui ci sono episodi epici eh di scontri tra scienziati che appunto si confrontano sulla maggiore o minore eh purezza del ghiaccio naturale rispetto al ghiaccio artificiale eh con appunto fisici e chimici che vengono pagati dai produttori di ghiaccio naturale o dai produttori di ghiaccio artificiale per dimostrare la maggiore o minore purezza del ghiaccio e questo per per noi storici è un grande una grande consolazione cioè che anche i fisici e i chimici siano alla mercè di di coloro che sono di pagano eh mi mi fermerei qui ovviamente ho dovuto condensare molto mi scuso però insomma spero di avere del meno incuriosito grazie tantissimo tantissimo tra l'altro quest'ultimo grazie a tutti